Al sopporto Augusta lancia SOS, azione decisiva per eliminare scariche a mare, si punti a realizzare depuratore. Come al sopporto siamo stati felici di sposare e partecipare all'operazione Nettuno di Nuova Acropoli Augusta perché è un'iniziativa importante per la città e per la manutenzione di una zona molto frequentata e amata dagli augustani, ma anche perché crediamo molto nelle potenzialità del Golfo Xifonio e di tutte le grandi opportunità che potrebbe offrire una volta liberato dagli scarichi fognari che purtroppo esistono così come in tutto il resto della costa megarese. Per questo con forza lanciamo un SOS perché si mettono in campo tutte le azioni necessarie a risolvere una volta per tutte l'annoso problema degli scarichi a mare. E' ora di passare ai fatti e realizzare il depuratore. A dirlo è Marina Noè, presidente del sopporto Augusta, associazione di operatori portuali che ha sostenuto in pieno l'iniziativa di Nuova Acropoli di riqualificare parte della ringhiera del lungomare Rossini-Granatello, contribuendo anche con manodopera specializzate che ha aiutato i volontari. Realizzare il tanto atteso depuratore porterebbe grandi benefici anche al Golfo Xifonio, una realtà che prosegue Noè. I diportisti, non solo augustani, vivrebbero con moltissimo interesse perché nella costa catenese non ci sono aria dove poterà ormeggiare senza problemi perché lì prevale la spiaggia e mancano le insinature. Pertanto il Golfo depurato dagli scarichi fognari rappresenterebbe una grande ricchezza per i diportisti ma anche per gli augustani che come tanti anni fa potrebbero ritornare a scendere dalle proprie abitazioni con l'asciugamano sotto il braccio e rifare il bagno in acqua pulita. Inoltre anche le abitazioni acquisirebbero un maggiore valore e magari potrebbero pure tornare a vedersi in mare le barche in legno con la cosiddetta vela latina che 60 anni fa facevano la spola tra l'abbadiazza e il Golfo con i turisti e i bagnanti a bordo. Sarebbe bellissimo, conclude la Presidente dell'associazione, oltre che importante da un punto di vista turistico ripristinare questo servizio anche per questo puntiamo sul Golfo Xifonio depurato come una delle opportunità che Augusta deve cogliere e su cui deve saper investire.